Per Carla, mio signore, fa che lei stia bene, perché è una bella ragazza, fa che lei guarisca per la sua malattia, fa che lei baci Francesco Curto per avermi detto a me di fare questo video per lei. Bacia Francesco Curto e non baciare me, perché se starai bene è solo merito mio, ma tu bacia lui.